La cervicale infiammata affligge moltissime persone. Sia il dolore cervicale che il torcicollo, sono fastidi intensi e molti italiani, almeno una volta nella vita, hanno provato questo disturbo, uno o l'altro che sia. È importante, in primis, capire la differenza tra dolore cervicale e torcicollo, poiché molti tendono a fare confusione. La cervicalgia non è altro che un'infiammazione, che colpisce le vertebre superiori della colonna vertebrale, quelle che sostengono il collo e la testa. Il dolore causa l'irrigidimento del collo e una forte diminuizione nelle capacità di movimento. Tende inoltre a irradiarsi alle spalle e alle braccia, e a essere accompagnata da altri sintomi quali mal di testa, vertigini, nausea e disturbi sensoriali, alla vista e all'udito. Il torcicollo è dovuto ad un affaticamento muscolare nella parte posteriore o laterale del collo, e può essere causato da diversi fattori come una posizione errata durante il sonno, durante il lavoro, stare ore davanti ad un pc, una lesione da sport o stress. In entrambi i casi, il modo di porre rimedio al dolore è il medesimo e stiamo per suggerirvi come fare. Zero controindicazioni, nessun effetto collaterale. Torcicollo e dolore cervicale potrebbero sparire in 60 secondi. Alleviare il dolore in 60 secondi. Straight King. Ruota le spalle all'indietro, facendo movimenti circolari per 10 volte. Poi estendi le scapole per altre 10 volte. Porta le mani dietro la testa, e spingila all'indietro facendo resistenza con le mani per 30 volte. Infine, inclina la testa di lato, fino a far toccare l'orecchio con la spalla, ripeti 10 volte per lato. Olio di ricino. Quest'olio, ottenuto direttamente dalla pianta, è molto adatto per alleviare i dolori e le tensioni muscolari. La direzione del massaggio dovrebbe sempre seguire lo stesso cammino del sottostante sistema linfatico drenante. Si possono ottenere incredibili risultati anche con una semplice applicazione direttamente sulla pelle. La seguente è una lista parziale dei più comuni disturbi cui può occorre rimedio. Borsite. Teratosi cutanea. Cisti sebacee. Distorsione dei legamenti. Ferite. Infezioni batteriche e da funghi. Lentiggini senili, macchie del fegato o dell'età. Prurito. Smagliature addominali, prevenzione. Strappi muscolari. Tinea. L'olio di ricino è ideale da massaggiare per 15 minuti su collo e zona cervicale per un risultato immediato. Pressione massaggiante. Se il dolore si trova sul lato destro del collo, effettua una pressione con la mano sinistra per pochi secondi. Puoi anche aiutarti con una pallina da tennis. Porta la testa sul lato opposto, e piega diagonalmente. Ripeti 20 volte. Infuso di curcuma. I potenziali benefici per la salute del tè alla curcuma sono ampi e vari, ma una delle proprietà più interessanti di questa bevanda supersalutare è la sua capacità di ridurre l'infiammazione e il dolore di cervicale e zone contratte come appunto il torcicollo. Bere una tazza al giorno di infuso di curcuma è benefico ed elimina il dolore, funge da farmaco naturale. Il torcicollo è causato da un affaticamento muscolare nella parte posteriore o laterale del collo, e può essere causato da vari fattori come una posizione scomoda durante il sonno, una lesione da sport o stress. Straight King. Comincia ruotando le spalle all'indietro per 10 volte. Poi estendi le scapole per altre 10 volte. Porta le mani dietro la testa, e spingila all'indietro facendo resistenza con le mani per 30 volte. Infine, inclina la testa di lato, fino a far toccare l'orecchio con la spalla, ripeti 10 volte per lato. Olio di ricino. Chiedi aiuto ad un ammino o un parente per effettuare dei massaggi sul collo con dell'olio di ricino per alleviare il dolore. Automassaggio. Cerca il punto dal quale nasce il dolore, se si trova sul lato destro del collo, effettua una pressione con la mano sinistra per qualche secondo. Puoi usare anche una pallina da tennis. Porta la testa sul lato opposto al crampo, e piega diagonalmente. Ripeti 20 volte. Infuso di curcuma. Bevilo con frequenza per alleviare il dolore e rilassare i muscoli. Impacchi di camomilla. Usa delle bustine di camomilla usate per creare degli impacchi da applicare tiepidi direttamente sulle zone del dolore.